Elezioni amministrative 2011, elenco comuni e risultati scrutinio in tempo reale. A partire dalle 8 di domenica 15 maggio 2011, si potranno consegnare i voti per le elezioni del Presidente di 11 province e del Sindaco e Consiglio Comunale di 1315 comuni. Le elezioni amministrative 2011 apriranno i propri seggi dalle ore 8 alle 22 nelle giornate di domenica e lunedì 16 maggio. Sono circa 15 milioni gli elettori che potranno recarsi alle urne, tenendo in considerazione che un eventuale ballottaggio si voterà nel giorno di domenica 29 maggio 2011. Da qualche giorno in tv e sulla stampa è cominciata la campagna elettorale, con incontri piuttosto caldi, specie per le città più grandi come Torino, Reggio Calabria, Cosenza, Milano e Bologna. A proposito, sono rimasta particolarmente incuriosita dall'ottimo insediamento della Lega nell'elettorato di Bologna, città storicamente rossa. Molti di voi che dovranno andare a votare sicuramente utilizzeranno Internet per condividere opinioni e seguire le campagne politiche 2.0, come qualcuno giustamente le definisce da qualche anno a questa parte. In questo post, noi di Trading Online Free, vi segnaliamo alcuni link utili per potervi orientare. Al seguente link trovate la lista comuni, elezioni amministrative 2011, lista comuni. L'eventuale data del ballottaggio ve l'abbiamo segnalata, mentre i risultati dello scrutinio dovrebbero essere forniti in tempo reale dal sito del comune di vostra appartenenza.